Benvenuti nel mondo degli orologi Movadot. Movadot è un marchio di orologi svizzero che ha fatto della fusione tra tradizione e innovazione il suo punto di forza. Fondato nel 1881 alla Chaux-de-Fon, in Svizzera, Movadot è noto per i suoi orologi minimalisti e dal design moderno, ma anche per la sua attenzione alla qualità dei materiali e alla precisione dei suoi orologi. Negli anni Ottanta, il celebre Museum Watch ha fatto il suo debutto, un orologio con un quadrante nero e un solo puntino dorato al centro, che rappresenta il sole almeriggio. Questo design minimalista e moderno è diventato iconico e ha contribuito a rendere Movadot un marchio di successo a livello internazionale. Ma Movadot non si ferma al design, la qualità dei materiali e la precisione dei suoi orologi sono un altro punto di forza del marchio. Molti modelli sono dotati di movimenti meccanici svizzeri di alta qualità, come il celebre movimento ETA, e ci sono anche modelli con cassa in oro o in PVD. La vasta gamma di orologi Movadot spazia dai modelli classici ai più moderni e sportivi, sia per uomo che per donna. Ogni orologio è un capolavoro di artigianalità, realizzato con la massima cura e attenzione ai dettagli.